Allora salutiamo! Salve a tutti! Dove siamo finiti? Siamo all'ingotto piere c'è una coda della madonna ma c'è una biglietteria che sembra sia comunque di via quindi andiamo in quella qui Questa è una biglietteria per cosa? Normale direi Una biglietteria per cosa? Per andare a vedere quella che serve la fia del libro ma noi da nerd andiamo invece a vedere World Cyber Games E' importantissimo! E' un evento straordinariamente importante che è incredibile ci sia qua a Torino Esattamente, a Torino non c'è mai più cacchio a meno che una volta fanno qualcosa di testa A meno una volta ogni tanto possiamo godersi ci apprestiamo dal biglietto perché il biglietto è importante Grazie 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 Grazie